ben trovati agli spettatori di policoro tv diamo il benvenuto al colonnello del ruolo d'onore dell'esercito carlo calcani ben trovato buongiorno benvenuti a voi e ai vostri telespettatori nella mia casa carlo ha da poco conseguito una laurea magistrale c'è un altro obiettivo altrettanto importante che vuole raggiungere legato ad una para olimpiade e per questo ha lanciato una petizione di cosa si tratta premesso che la petizione non l'ho lanciata io ma l'hanno lanciata i miei sostenitori e come tu ben sai e tutti coloro che mi seguono siete veramente tanti siete tanti che mi volete bene siete tanti che mi amate siete tanti che trovate addirittura in me la forza di affrontare le vostre difficoltà e non diciamo non parliamo di difficoltà più grandi più piccole perché difficoltà sono difficoltà sono problemi a qualsiasi livello per cui hanno attivato questa petizione vedendo che il sottoscritto è sempre escluso del sottoscritto continua a non avere risposte anche a quel mio perché che conclude il film il docufilm che michelangelo gratton per ability channel ha realizzato sulla mia storia già due anni fa a maggio del 2018 subito dopo la prima ho avuto la fortuna di avere in sala personaggi dello spettacolo tra cui Bruno Vespa Piero Angela e ovviamente Bruno Vespa dopo aver visto in questo documentario che racconta anche il mio dietro le quinte quello che normalmente non faccio vedere perché preferisco far vedere il sorriso far vedere i successi far vedere che la vita è sempre bella comunque in ogni condizione però perché il film vuole essere non una storia di malattia ma soprattutto un messaggio di vita vuole proprio attraverso la malattia poter dimostrare che la vita è degna di essere vissuta sempre e comunque in ogni condizione perché è stato necessario lanciare questa petizione perché io dopo una squalifica assolutamente ingiusta che ho scontato fino all'ultimo giorno non ho avuto neanche la riduzione di un giorno che avevo chiesto per disputare i campionati italiani che erano stati programmati mi riferisco a quelli del 2019 proprio due giorni prima del termine della mia squalifica di quattro anni il massimo della pena e dopo essere stato nella prima nel primo procedimento nel primo processo della giustizia sportiva che è importante dirlo funziona in modo totalmente opposto a quello che la giustizia ordinaria in quanto c'è la presunzione di colpevolezza quindi è sufficiente che qualcuno ti accusi di aver fatto qualcosa di illecito contro le regole per essere sottoposto a procedimento ovviamente ho affrontato questo processo il primo processo e che si è concluso con la soluzione piena ma nonostante questo la procura del coni è riuscita a riportarmi in tribunale dopo un mese e mezzo nonostante ci fosse agosto dalla pubblicazione della soluzione a quella che poi è stato all'udienza di appello hanno avuto una rapidità straordinaria io gli faccio anche un plauso ma spero che questa rapidità ti possa estendere a tutti i procedimenti e magari anche quelli ben più importanti di quella e squalifica di quel procedimento che ha portato alla mia squadra squalifica squalifica che nonostante il dubbio ha avuto il massimo la pena e proprio perché non ho fatto un'ammissione di colpa perché non potevo ammettere ovviamente una cosa che non avevo fatto e non mi è stata nemmeno ridotta ai due anni perché mi bastava confermare l'accusa della procura per avere immediatamente di mezzata la pena due anni ma non posso ammettere ciò che non ho fatto io ho rispettato le regole avevo l'autorizzazione preventiva all'uso dei farmaci che io sono costretto ad assumere quotidianamente per sopravvivere farmaci che sono certificati come farmaci salvavita e che non possono essere sospesi ma io ho fatto anche quello per mostrarne la necessità andando poi a finire al pronto soccorso per scompenso cardiaco blocco renale quindi ho messo anche a rischio quella salute che già abbastanza compromessa pur di continuare a sognare di continuare a sperare e sentirmi vivo perché io attraverso lo sforzo vivo mi sento vivo è proprio quello che mi permette nonostante mille difficoltà quotidiane nonostante una malattia devastante che da 18 anni ha stravolto la mia vita ma come spesso scrivo sì mi ha stravolto mi ha distrutto ma non mi ha sconfitto perché ho ancora quella forza interiore quella forza mentale che mi permette di puntare degli obiettivi come quello della laurea che è un risultato importante tirato fuori anche da una situazione difficile di malattia quindi tirar fuori qualcosa di buono dal negativo perché c'è sempre qualcosa di buono e il bene deve sempre trionfare sul male quindi questi anni di malattia mi sono concentrato nello studio avevo necessità di distrarre e tenere impegnata la mente in tutt'altro rispetto ai problemi ai problemi di salute avevo necessità di difendermi nel senso di dover ottenere quei diritti che sono spesso negati e dovevo farlo anche per i miei colleghi tanti colleghi e amici che nel frattempo sono morti per le stesse problematiche per aver fatto il proprio dovere e che ancora oggi non hanno ottenuto i loro diritti o le famiglie in quei casi in cui purtroppo i miei colleghi hanno istruito la domanda ma non l'hanno vista arrivare al termine perché sono morti prima. Carlo si sottopone delle delicate terapie tra Catanzaro e Londra la medicina ha fatto progressi in questo senso c'è qualche speranza maggiore per chi si trova nelle sue stesse condizioni di salute? La speranza dobbiamo sempre averla tenerla in questo senso c'è anche per questo la mia attività e tutto quello che quotidianamente faccio io lo rendo pubblico e cosa che non sempre si ritorna tutto quell'affetto e quell'amore sicuramente che domina su qualche negatività però è ovvio che così facendo ti esponi anche a chi in modo vile, in modo veramente balordo cerca di diffamarti, cerca di screditarti perché evidente è un riferimento per tantissime persone perché sono diventato un esempio, sono diventato simbolo di resilienza e questo purtroppo dà fastidio, dà fastidio a quelle poche perché sono veramente poche persone perché invece siete un esercito quelli che mi sostenete, che mi tenete compagnia e che mi riempite continuamente di straordinari messaggi di vita E' proprio questo che mi ferisce questo mio donarmi costantemente agli altri e molto spesso Le mie necessità, i miei problemi passano in secondo piano perché punto sempre a risolvere prima quelle degli altri e allora vedere che qualcuno in questo trae motivo per colpirti, motivo per diffamarti, per screditarti, per parlare male di te o addirittura non essere considerato e quindi escluso dal mondo sportivo, che potrebbe sfruttare e sfruttare è una parola straordinariamente bella per me Perché quello sfruttare vuol dire che ti valorizzano, ti utilizzano per aiutare gli altri, per dare coraggio agli altri E lo sport è un mezzo straordinario, un mezzo veramente di solidarietà, di condivisione e che ti rafforza Io se non fosse per lo sport non sarei vivo, lo dicono i medici perché contro una clinica, documentazione medica che dice tutt'altro, che conferma una condizione gravissima per la quale non dovrei nemmeno essere vivo O sicuramente non dovrei essere in piedi e così attivo, quindi questa è la dimostrazione senza dubbio che c'è qualcuno al di sopra di noi, al di sopra di tutto E che veramente decide la nostra sorte, ma è la dimostrazione di quanto l'avere investito sin da piccolo Io oggi a 52 anni posso dire che ho quasi 50 anni di attività sportiva, sempre ad altissimi livelli Il mio fisico si è temperato, è diventato così resistente da poter sopportare tutto E ancor di più si è rafforzata la mente A chi sente invece Carlo di dover dire grazie in tutti questi anni? Vi sicuro anche ai medici che la seguono quotidianamente Guarda, io quasi quasi ti leggo qualche parola dei ringraziamenti inseriti nella tesi Vogliamo ricordare in cosa si è laureato? Io mi sono laureato in scienze giuridiche di diritto internazionale Con la specialistica in gestione delle risorse umane E questa tesi che mi ha evvalsa un 110 collode E' veramente un documento importante perché racchiude ricerche scientifiche E il titolo è Sindrome dei Balcani Gli aspetti legali dalla contaminazione al riconoscimento giuridico E' un documento importante che può aiutare tantissimi colleghi che non hanno ancora ottenuto i propri diritti Perché ci sono ricerche scientifiche, ci sono documenti Ci sono quindi fatti realmente accaduti Dimostrazione di quello che è l'ostruzionismo della burocrazia Quella burocrazia che diventa ancora più pesante della malattia E che uccide talvolta più della stessa malattia Non dimentichiamo che tanti colleghi hanno anche messo fine alle loro sofferenze Attraverso un suicidio, attraverso un gesto estremo Quindi non si può dimenticare La tesi l'ho dedicata proprio a tutte le vittime del dovere Ai nostri familiari che spesso vengono dimenticati Ma loro ne pagano le conseguenze In modo ancora più drastico e più pesante di noi vittime dirette E noi abbiamo scelto di fare questa vita Ho scelto di indossare un uniforme E' una scelta che rifarei altre mille volte Nonostante tutto quello che mi è capitato Perché io ho fatto veramente una scelta di vita La scelta di dedicare la mia vita agli altri E quale modo più bello E farlo vestendo una divisa Una qualunque divisa Ma una divisa Quindi Nei ringraziamenti Ovviamente ho voluto anche ringraziare Prima e fra tutti i miei figli La vera luce dei miei occhi Francesca Quindicenne E Andrea Che a novembre compirà 12 anni I miei famigli Ma guardando negli occhi Quei messaggi vuole trasmettere? Come? Guardando negli occhi i suoi figli Ai suoi figli come alle future generazioni Che messaggio si sente di voler rivolgere? E' quello che dico ogni volta che vado nelle scuole Sono loro Non solo la nostra vita Ma sono loro il nostro futuro Il futuro per una società migliore Ecco perché noi dobbiamo essere al loro fianco Dobbiamo dargli esempi positivi Dobbiamo fargli capire Che i valori esistono Ci sono persone come me Che incarnano questi valori Che per quei valori hanno dato la propria vita E anche io sono pronto Anche oggi a dare ancora la mia vita per quei valori Per quel tricolore su cui ho fatto un giuramento Giuramento di fedeltà E molti ragazzi nelle scuole mi chiedono Come io possa ancora vestire un uniforme Con tutto quello che mi è successo Ma il problema non è l'uniforme Il problema non è la patria Quello che mi dà la forza E perché quel giuramento fatto L'ho fatto proprio a uno Stato E lo Stato siamo noi cittadini E' questo che mi dà la forza Il sostegno e la solidarietà Che mi arriva dal popolo Da coloro che non mi devono nulla E' straordinario Chiunque mi segue lo vede Cioè io appena scrivo qualcosa Pubblico qualcosa Le visualizzazioni volano Non è una questione di numeri Ma è una questione proprio di qualità Basta leggere quello che le persone scrivono con il cuore Io l'altro giorno non ho fatto in tempo A ritornare da Brindisi Dall'ospedale di Brindisi Dove ho fatto la mia plasmaferesi settimanale Che è tipo una dialisi Ma un po' più pesante Perché dura molto di più E quello che tolgono Quei tre litri Tre litri di mezzo di plasma Vengono buttati via E in quel plasma non ci sono solo liquidi Ma c'è tutto Tutto quello che ti permette di stare in piedi Ma non ho fatto in tempo Ad arrivare da Brindisi a casa Sono 22-23 chilometri C'erano già 50.000 visualizzazioni E una valanga di commenti Ad un posto che avevo fatto Stando in ospedale Mentre facevo il trattamento Questo è quello che io dico E' straordinario Questa è quella linfa vitale Che mi permette di sopportare tutti E di poter dire Benvenga la mia sofferenza Se questa sofferenza Può ancora salvare delle vite umane Può essere d'aiuto E d'incoraggiamento agli altri Caro sicuramente I verdetti della giustizia Vanno sempre rispettati Però lei a gran voce Cosa chiede ancora Relativamente a quella che è la tutela Dei suoi diritti Sì ti completo i ringraziamenti Perché tra i ringraziamenti Ho inserito anche coloro Che mi hanno ostacolato in questi anni Vi devo assolutamente ringraziare Perché se io oggi sono L'uomo Simbolo di resilienza Così forte Soprattutto mentalmente Perché il fisico L'ho costruito In tantissimi anni di sacrifici Lo devo anche a loro Perché se io avessi avuto Una vita di conforto O se non avessi avuto Tutti questi ostacoli e difficoltà Non sarei diventato così forte Quello che chiedo oggi E il rispetto Il rispetto Per me E per tutti quelli come me Per quelli che hanno fatto Il proprio dovere E forse l'unica colpa che abbiamo È proprio questo Per aver fatto il nostro dovere In un contesto In cui purtroppo abbiamo subito Dei danni permanenti O altri hanno perso la vita Quindi noi vorremmo essere rispettati Per quello che siamo Ma vogliamo essere rispettati Dalle istituzioni Perché il popolo ci rispetta Questa è la cosa incredibile E che fa Tremendamente male Perché proprio chi Avrebbe il dovere Istituzionale Morale Di trattarci Con i guanti bianchi Perché quando la vita Diventa fragile Deve essere trattata Con i guanti bianchi Questo fa male Perché poi vedi Intorno a te Un calore umano Una riconoscenza Da persone che non ti devono Nulla Perché io E i miei colleghi Abbiamo soltanto fatto Il nostro dovere Questo fa male Non vogliamo altro Non vogliamo Non sono i soldi I risarcimenti Che contano Basta pensare che io Quando sono stato convocato Roma dal capo Di stato maggiore Uscente Graziano Generale Graziano Che mi ha voluto Conoscere Dopo L'uscita Del docufilm Io sono il colonnello Parlando Del risarcimento Che io dopo 18 anni di malattia Ancora non ho avuto Gli ho detto Quello che fa male Non è il risarcimento E che c'è stata Indifferenza Perché io avrei Accettato anche Un euro simbolico E la stessa cosa Ho detto al ministro Trenta L'ex ministro Della difesa Che mi ha nominato Suo consulente Al tavolo tecnico Che ha iniziato I lavori A febbraio 2019 Proprio Sull'uranio Impoverito E il ministro Trenta Ha voluto Me Come garante Dei diritti Dei militari Delle vittime A quel tavolo A quel tavolo Di lavoro Proprio Sulla problematica L'uranio Impoverito Poi purtroppo I lavori Non si sono Conclusi O meglio Noi il lavoro L'avevamo Completato Ma non si è concluso L'iter applicativo Perché poi Il ministro Purtroppo Purtroppo Ha lasciato Ha dovuto Lasciare Il suo incarico Per un cambio Di gestione E adesso Speriamo Che il nuovo ministro Almeno Continui O riprenda O riprenda Un lavoro Che avevamo Fatto Applicando Tutto ciò Che era Necessario Per risolvere Una problematica Dei militari Questi procedimenti Perché Tanti ci lasciano Prima Prima del tempo E questo Fatale A chi come me Invece resta Continua Questa battaglia Anche per un dovere Morale Nei confronti Di Dino Cio Io la ringrazio Carlo Lei ha avuto modo Sicuramente Di esporre Tutte le sue Ragioni La giustizia O chi di competenza Farà il suo corso Nelle serie opportune È giusto Però anche Dare voce A quelle che sono Almeno Rispondere Al perché Il film Dicevo Conclude Con un mio Perché Perché Tutto questo Perché Questa esclusione Perché Non mi risponde Mai nessuno Dopo due anni Io ancora Aspetto delle risposte E questa L'assurdità Io ho finito Ripeto La squalifica L'ho fatta Tutta Fino all'ultimo Secondo Quattro A lunghissimi Anni In cui ho Continuato a Credici In cui ho Continuato Ad allenarmi Puntando Alle Paralimpiadi Di Tokyo Perché so Che potenzialmente Le posso Vincere Ma non è La vittoria Sul podio Che è importante Perché noi Possiamo vincere Anche senza Salire su un podio Io Vinco ogni mattina Quando mi alzo E rivedo La luce del sol Quindi Vogliamo Perché Da un anno E mezzo Quasi Che io sono Nelle condizioni Di tornare A svolgere Attività Ancora Non ottengo Disposte Io non posso Andare A disputare A ottobre Ci sono delle gare Di Coppa Europa In Austria Non posso andare Non voglio andare Perché non sono In regola Da un anno E mezzo Ancora non mi hanno dato L'autorizzazione Preventiva All'uso Di farmaco Questo è Perché Un'autorizzazione Preventiva Che mi è sempre Stata Concessa Adesso Non mi rispondono Non mi danno L'autorizzazione E tu Che ovviamente Vuoi essere In regola Che vuoi essere Onesto E E giocare Non sporco Ma giocare Risperdendo Tutte le regole Non vado A gareggiare Se non ho Questa autorizzazione Preventiva È una mia scelta Ma perché È così Lo sport è Soprattutto Lealtà E rispetto Dell'avversario Anche questo Rientra nel rispetto Dell'avversario È giusto dare voce A chi pone Degli interrogativi Noi la ringraziamo Le facciamo un grosso In bocca al lupo Per le Paralimpiadi Ma per tutto Quello che riguarda La sua vita Grazie Grazie Carlo Per essere stato Con noi Grazie Per essere Entrati nella mia casa E avermi Fatto compagnia Grazie mille Io saluto anche Gli spettatori Di Policoro TV Ai quali do appuntamento Con la prossima intervista Ma cosa mi vuole dire ancora Mai Arrenderti Assolutamente Mai 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 Grazie Per il suo esempio Grazie davvero Arrivederci Carlo Grazie 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 a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti